Non ci sarebbe stata crescita e sviluppo senza l'asse più importante per noi che sono le persone. Oltre 2.200 sono quelle che rappresentano il nostro gruppo, di cui 1.300 circa in Europa, ma in Italia abbiamo 700 dei nostri collaboratori che sviluppano la loro opera tra Gallarate, Vergiate, il Veneto e la Sicilia. È stato caratterizzato da un anno di grande crescita anche in termini occupazionali. Abbiamo inserito nel nostro gruppo oltre 100 persone, di cui il 60% in Italia, a dimostrazione che la nostra area d'origine è quella italiana, senza dimenticare che tutte le nostre realtà nel gruppo performano per un unico obiettivo ed essere complementari l'una con l'altra. Nel 2025 consolideremo questi numeri e continueremo con questo trend.